Buongiorno a te e bentornata al nostro consueto appuntamento. Io mi chiamo Jennifer e oggi ti presento una novità tra le specialità di naturale italiano. Un primo piatto dal sapore celestiale, gli agnolotti alla fonduta, un morbido strato di pasta fresca all'uovo dalla forma quadrata che custodisce un cuore cremoso e gustoso, ricotta, fontina e grana padano D.O.P., un mix di formaggi italiani di alta qualità, perfetto per tutti, anche per gli amici vegetariani. Un ripieno fantasioso, dal sapore deciso, che saprà piacevolmente stupire i tuoi clienti. Il Natale alle porte, impreziosisci il tuo menù delle feste con gli agnolotti alla fonduta. E adesso alcune informazioni utili. In ogni confezione da 2 kg di agnolotti alla fonduta, ci sono circa 300 agnolotti alla fonduta, dal peso di 6,5 grammi ciascuno. Per preparare una porzione ti basteranno 15 agnolotti, perciò con 2 kg potrai preparare ben 20 porzioni di agnolotti alla fonduta. Il codice promo per una confezione da 2 kg di agnolotti alla fonduta è 316037. Cucinarli è semplice e veloce. Fai cuocere gli agnolotti in acqua bollente e salata per 5 minuti. Scolali e condiscili con burro, salvia e una manciata di pinoli tostati. E per dare al piatto un tocco di classe, aggiungi qualche scaglia di tartufo bianco. Fai felice i tuoi clienti. Scegli la miglior qualità ad un prezzo conveniente. Al prossimo appuntamento con le olive Cochillo, un piatto versatile e dal sapore intrigante. Ciao!